Sono Andrea Finotti, titolare del Panificio Finotti, di Porto Viro. La nostra attività si svolge in particolar modo sui panificati, sul pane fresco e soprattutto sui prodotti locali perché noi teniamo molto il nostro territorio, quindi produciamo in particolar modo la ciabatta polesana con un'antica ricetta e il nostro pan biscotto tradizionale di una volta. I nostri prodotti li potete trovare nei nostri due punti vendita a Porto Viro, ma soprattutto li possono trovare i nostri fantastici ospiti nel nostro B&B Granaglio Celeste. Grazie a tutti.